Massimo Lovati E' una bella iniziativa perché diventa una Hall of Fame e intanto è d'incitamento ai nuotatori del Genua Nuoto, i giovani, quelli che ancora non sono qua, a volerci essere, quindi a migliorare e fare in modo di essere affissi anche loro in immagine fotografica mentre faranno le azioni di nuoto. Quindi mi sembra una buona iniziativa e è una manifestazione culturale a tutti gli effetti e anche psicologica, motivazionale.